Oggi parliamo di due preposizioni, su e in. Parlare di preposizioni è sempre molto complesso, un po' perché non dipendono da un'unica cosa, cioè a volte è la funzione che hanno, a volte è la categoria delle parole che seguono, a volte è il verbo da cui dipendono. Si sono scritti libri e si potrebbero scrivere enciclopedie sulle preposizioni, quindi vediamo in questo video semplicemente il significato di base di queste due preposizioni e un caso specifico in cui bisogna usarne una e non un'altra perché sennò si dicono delle cose che uno non vuole dire. In italiano in ha un significato che è dentro e su significa sopra. Quindi se io vedo queste due fotografie e le devo descrivere direi nella prima il gatto è nella neve cioè dentro alla neve e nella seconda ok? Vediamo quindi se riuscite a decidere quale preposizione dobbiamo mettere per decidere cosa succede nella prima fotografia e nella seconda fotografia. In quale uso in e in quale uso su. metti in pausa il video e completa la frase. Ed ecco la soluzione. Nel primo caso sparire o cadere nella neve perché è dentro e nel secondo caso giocare sulla neve perché sono sopra, non sono dentro la neve. Ok? Vediamo un altro esempio. Nel primo caso c'è un signore che cammina e nel secondo caso ci sono delle uova di testugine che sono. Anche qui metti in pausa il video e decidi quale preposizione usare. Il signore cammina sulla sabbia e le uova sono nella sabbia.